amici di critica city upload qui logan che presenta dalian e il suo carta volante abbiamo qua un meccanismo automatico di lancio con un volo programmato eccolo qua un piccolo motore muove due dischi rotanti ovviamente in senso uno opposto all'altro all'interno del quale l'aereo può scorrere e venire spinto abbiamo già assistito ad alcuni lanci di prova precedentemente ma adesso è il momento della prova definitiva l'aereo ha un nome di battaglia? l'aereo ce l'ha il nome di battaglia si chiama cavatappi il cavatappi e perché cavatappi? perché dai voli di prova si è appurato che il volo è tipico del cavatappi a spirale e quindi adesso ora che è decorato bellamente decorato bellamente parolone come obiettivo 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 penso che qua potrebbe essere potrebbe essere è pronto? sono nato pronto molto buono mancato abbiamo solo tre minuti di video quindi ancora 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 una e mezzo però è andato però molto bello se no proverò ad acchiapparlo al volo ha fatto una traiettoria un po' bellissimo è vera la faccia del cavatappi infatti prima mi segue questo l'ultimo che riusciremo a fare parte niente niente dai sesto è l'ultimo il 6 porta bene perché è il numero perfetto che è il 2 di 3 che è ancora più perfetto ma è il 6 numero perfetto ah sì eh dopo ti spiego anche perché se vuoi questo andrà per forza eccolo qua è vero forse a prendere te l'ho detto ottimo prego una dichiarazione certo spengo il mio dispositivo di lancio automatico e programmato è veloce qua ok e questo era il mio cartavolante i Dalien i cavatappi Logan un ciao a tutti gli amici e buona visione e buona critta i think i can 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 Grazie per la visione!